ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video io ho ancora la voce con i postumi del covid perché alla fine non ero influenziato ma mi son preso il covid tra natale e capodanno vabbè lasciamo perdere oggi la recensione di un prodotto che tempo fa mi avevate chiesto molto di prendere di provare non l'avevo mai preso perché non mi serviva a un prezzo che comunque non è proprio basso poi alla fine l'ho preso adesso vi devo dire ce l'ho da un po di tempo montato quindi vi posso dare un feedback molto attendibile perché l'ho montato a casa mia e l'ifisso e ce l'ho da qualche mesetto adesso però un prodotto del quale non avevo assolutamente dubbi perché quando si tratta di provare un prodotto di ezviz diciamo che andiamo abbastanza sul sicuro parliamo quindi del cp4 lo spioncino con monitor di ezviz monitor da 4.3 pollici con touchscreen che funziona bene devo dire telecamera 1080p quindi full hd con un angolo di visione di 155 gradi ma anche un sensore pier con diverse modalità di rilevamento che prende un angolo di 110 gradi e vi dico subito che funziona benissimo ma anche troppo nel senso che se lasciate la detenzione del rilevamento delle figure umane attiva vi arriveranno tantissime notifiche dipende poi dal contesto della vostra casa però in un condominio dove magari non c'è l'ascensore passano tutti dalle scale come casa mia capite che le attivazioni diventano parecchie però se lo prendete per quello lui il suo dovere lo fa alla grande monta una batteria da 4.600 mAh vi dico l'ho montato a novembre adesso siamo ai primi di gennaio ho fatto tutte le clip del video ho fatto diverse prove diverse attivazioni e li montato ed è ancora oltre 70 per cento di batteria quindi in un utilizzo diciamo un po più intensivo male che vada secondo me lo caricate una volta ogni due mesi ma proprio usarlo tanto e voi siete tranquilli secondo me è il punto di riferimento in questa tipologia di prodotto anche perché costa circa 140 euro su amazon ovviamente troverete i link in descrizione però compriamo un prodotto che è stra collaudato esiste già da un po di tempo e siamo sicuri che funzioni benissimo non so se z viz ha in programma la produzione la vendita di un dispositivo aggiornato ma secondo me va talmente bene che non ce ne sarà bisogno adesso bando alle cianci andiamo avanti col video facciamo lo spacchettamento vi faccio vedere nel dettaglio tutti i passaggi uno per uno di come va montato sul vostro portoncino quindi non lo proviamo a banco ma lo montiamo fisicamente insieme facciamo poi un po di test vi faccio vedere come funziona e ne riparliamo a fine video ma prima di andare avanti vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare tutte le notifiche e di seguirmi su instagram massidattoli perché metto sempre tutti i post dei video che sto preparando e dei contenuti che ho appena pubblicato sul canale eccolo qua spiancino wifi con monitor e batteria 4600 mAh rilevamento delle figure umane 1080p 4.3 pollici lo schermo sensore peer l'importante 166 gradi di apertura codifica video h265 e supporta micro sd fino a 256 giga apriamolo molto bene tiriamo fuori tutte le parti contenute nel kit facendo molta attenzione perché alcune potrebbero danneggiarsi manualistica accessori adesivo da mettere alla porta che segnala la protezione by ez viz un cavo micro usb per ricaricare il monitor una serie di viti di varie lunghezze lo spioncino vero e proprio che avrà il pulsante di chiamata la telecamera il sensore infrarosso il microfono di uno speaker qua laterale arriva già con un biadesivo 3m e questa è la parte che va nel buco al posto del vostro spioncino questa parte qui protetta con molta accuratezza è il connettore che deve passare attraverso il buco e che andrà poi a collegarsi al monitor monitor che questo molto molto bello pulsante porta micro usb per la ricarica monitor che si scastra dalla sua basetta come funziona questa basetta andrà applicata sulla porta vedete che c'è anche questo gommino questo verrà fatto passare nel foro bisognerà mettere il connettore in questa posizione qua mettere poi questo coperchietto con la freccia verso l'alto in questo modo che andrà a bloccare il connettore ogni volta che verrà messo e tolto il monitor stabilirà la connessione via cavo con tutta la parte della telecamera sensoristica eccetera tutta questa basetta verrà fissata tramite solo due viti tramite questi due fori filettati quindi cosa succederà che questa parte andrà insieme a questa a pacco a calzare sulla nostra porta un sistema molto molto ingegnoso e in dotazione ci vengono date tre viti che copriranno sicuramente dalla porta più sottile alla porta più spessa e utilizzeremo quella di cui avremo bisogno adesso per prima cosa mettiamo in carica il monitor tramite micro usb non la type c che serve per collegare la parte esterna che poi magari non è neanche una type c ma non voglio provare colleghiamo il caricatore si illumina e già si attiva perché tramite questo monitor potremmo già fare l'accoppiamento con il nostro wifi monitor che è completamente touch queste sono le reti che riesce a trovare io ora non faccio la connessione perché il punto di accesso che lui dovrà diciamo prendere non è questo che ho dove sono adesso quindi lo farò poi in un secondo momento intanto lo lascio in carica e l'installazione la configurazione la facciamo poi direttamente sulla porta bene quando il tastone rimane illuminato fisso vuol dire che è completamente carico tra l'altro non abbiamo parlato prima della costruzione di questo monitor ma è fatta molto molto bene molto molto elegante e anche questa segnalazione visiva con il pulsante illuminato nel contorno è molto molto elegante una volta carico possiamo disconnetterlo dal caricatore e lui è pronto per essere montato quali sono i requisiti per essere montato abbiamo varie lunghezze quindi partiamo da una porta che per forza di cose deve essere spessa almeno 4 centimetri perché 3,3 è il pezzo che entra e il foro deve essere largo almeno diciamo un centimetro e tre per far passare il connettore e il diametro della parte rotonda qui è circa un centimetro e mezzo perché vi do queste informazioni perché potrebbe anche succedere che deve essere montato su una porta non provvista di spioncino quindi bisognerà praticare un foro direi per stare tranquilli da due centimetri in modo che passi agevolmente questa parte che si riesca a montare la basetta e con la profondità dovete stare attenti di averne diciamo almeno tre e mezzo quattro andiamo a montarlo poi lo impostiamo arrivate al vostro spioncino se presente alzate lo sportellino se ce l'avete qui all'interno c'è un taglio questo taglio va preso con qualcosa che riesca a prendere queste due tacchette insieme io ad esempio uso delle monete il 5 centesimi per questa misura va bene e lo svitate perché gli spioncini si sono fatti in questo modo adesso non guardate il mio che aveva all'interno di un colore all'esterno di un altro ma c'è una parte esterna quella col vetrino che si avvita alla parte interna attraversando lo spessore della porta e a volte può rimanere ancora a parte il pezzo con lo sportellino che dovrebbe essere a incastro o al limite potrebbe esserci un puntino di colla a questo punto avete il foro passante nella porta normalmente è composto da un foro sul rivestimento interno e un foro sul rivestimento esterno normalmente in mezzo potrebbe essere vuota ma poi dipende dal tipo di porta se blindata se di legno se è a strato singolo insomma ce n'è 50.000 tipi ed è per quello che cambia lo spessore a questo punto bisogna prendere la parte esterna con il tastino e la telecamera e questa parte cilindrica deve entrare esattamente in quel foro facendo attenzione prima a far passare il cavetto col connettore prima di togliere poi il biadesivo e applicarlo sulla porta verificate che sia dritto dritto vuol dire che dovete leggere la scritta perfettamente parallela al pavimento un consiglio che vi posso dare quello di usare ad esempio uno stuzzicadenti che poi in realtà è un bastoncino per gli spiadini puntarlo sul connettore con un pezzo di scotch in modo da agevolare l'inserimento attraverso il foro arrivati a questo punto dovete trovare la lunghezza esatta della vite tale a raggiungere il filetto dalla parte esterna per serrare la basetta sul lato interno della porta nel mio caso ho trovato utile la vite media su una porta spessa 8 centimetri potete tranquillamente prima imboccare le due viti che dovrete ritrovarvi nella parte superiore una volta imboccate le due viti dovete prendere il connettore farlo scorrere da dietro nella base qui sotto in questo modo qui e poi fermarlo con il coperchietto che ha la freccia con la posizione in alto in questo modo fatto questo dovete mandare dentro il cavo in eccesso puntare la parte sotto imboccarla sulla testa delle viti dove ci sono le asole tirare in basso e in questo momento abbiamo appeso la basetta alle due viti lasciando nella posizione corretta il cavetto flat dietro iniziamo a effettuare il serraggio ok la lunghezza delle viti permette di avere un discreto gioco effettuate il serraggio finale senza esagerare calcolate che ogni volta che tirate una vite si molla un po' l'altra quindi quando arrivate a un punto che tirano date un colpetto a una un colpetto all'altra e avete finito senza esagerare la base deve stare ferma lo spioncino rimane molto molto discreto ed elegante sull'esterno e sull'interno ci ritroviamo in questa condizione arrivati a questo punto possiamo prendere il nostro monitor lo appoggiamo sulla basetta e lo facciamo andare fino in fondo installazione terminata possiamo togliere la pellicola e a questo punto andiamo avanti con l'installazione quindi premiamo il pulsante di accensione vediamo già fuori dalla nostra porta arrivati a questo punto ci chiede già su quale rete wifi associare la connessione ne scegliamo una mettiamo la password il touch tra l'altro è abbastanza preciso mi aspettavo una sensibilità minore invece funziona bene messa la password premete join e lui fa già l'accoppiamento perfetto a questo punto è associato al wifi apriamo la nostra app e zviz se è la prima volta che vedete un dispositivo zviz bisogna scaricare quest'app dal store del vostro telefono c'è per apple c'è per android fare la registrazione quindi creare un account utente dopodiché potete loggarvi e vi trovate una schermata verosimilmente tipo questa dove magari non avete nessun dispositivo ma cliccando il tasto a destra in alto più aggiungi dispositivo c'è già la categoria spioncini se nel frattempo il dispositivo è uscito dalla modalità di accoppiamento col qr code basta andare nella schermata toccare il display tasto ingranaggio network bind your device to e zviz account frecciolina e vi compare il qr code lo inquadrate col telefono e il dispositivo inizia a fare la scansione trova già il nostro spioncino clicchiamo aggiungi perfetto lui ha fatto l'aggiunta del dispositivo ce l'abbiamo già online viene anche già riconosciuto dall'assistente di amazon molto bene da qui in poi iniziamo diciamo a smanettare prima nel software poi andiamo sul display lasciamo tutto com'è andiamo avanti dobbiamo digitare una password che serve per avere il pieno controllo del dispositivo non perdete la mai perché se dovete ri associarlo ad un altro account ve la chiede troviamo ora il dispositivo nella nostra lista se l'unico troviamo solo quello in questo caso clicchiamo su cp4 è la prima cosa che andiamo a fare andare nelle impostazioni ok diamo un'occhiata alle impostazioni vi faccio notare subito che nella schermata principale abbiamo la vista live la cronologia dei video e lo stato della batteria dispositivo che adesso è al 92 per cento ce l'ho montato da una settimana circa con le attivazioni normali che può fare impostazioni che cosa abbiamo abbiamo innanzitutto il nome che io ho cambiato subito ho messo spioncino le modalità operative le abbiamo viste in precedenza io adesso l'ho messo in alto risparmio energetico questo perché perché la telecamera rimane sempre in stand by ho disattivato i rilevamenti che non mi interessano lei ogni volta va risvegliata per fare la visualizzazione live chiaramente se viene premuto il pulsante di chiamata rimane attiva se invece noi ad esempio attivassimo il risparmio energetico abbiamo la possibilità di avere una telecamera che registra che adesso getta tutti i rilevamenti alte prestazioni abbiamo delle registrazioni più lunghe una qualità maggiore è una luminosità del display maggiore con invece personalizzazione utente possiamo definire tutte le impostazioni che vogliamo ad esempio il rilevamento intelligente che si distingue tra pir figura umana dove pir rileva solo l'infrarosso quindi rileva il calore del corpo umano ma anche di animali o magari di qualcosa di caldo che passa davanti quindi meno preciso rilevamento figura umana invece va effettivamente a rilevare la figura delle persone e sappiamo che il software e gli hardware di e z vita sono molto precisi su questo in entrambi i casi possiamo rilevare la sensibilità tra alta media e bassa chiaramente ho provato con media rileva tutte le persone con bassa magari le rileva solo se passano più piano o se sono proprio perfettamente nell'inquadratura lì dipende poi dal contesto da come è montata la telecamera quando vogliamo avere ancora uno step in più abbiamo nelle opzioni avanzate il rilevamento dello stazionamento sospetto dove noi possiamo impostare da 1 a 15 secondi il tempo per il quale se una figura rimane davanti lo spioncino genera un allarme una notifica di rilevamento sospetto dentro la voce notifiche abbiamo tutte le personalizzazioni per quanto riguarda l'audio il tipo di messaggio abilitare o meno la chiamata la porta e dentro le notifiche possiamo anche di decidere se ricevere o no i messaggi avere degli orari degli intervalli con delle programmazioni per quando ricevere quando non ricevere le notifiche e tutta una serie di personalizzazioni nelle impostazioni immagini possiamo attivare vdr che serve per correggere ambienti dove c'è molta retroilluminazione tutto quello che andiamo a modificare ce lo fa vedere in tempo reale nella visione live così possiamo fare delle prove impostazione luci serve solo a tenere o meno l'indicatore acceso del campanello qui abbiamo il controllo completo della batteria volevo farvi vedere ancora una cosa particolare nell'audio nell'impostazione audio oltre a poter scegliere la suoneria abilitare l'audio abbiamo l'impostazione dell'interfono di modifica voce quindi possiamo modificare il tono la voce che verrà sentita all'esterno per non farci riconoscere se ad esempio ci sono dei malintenzionati che vogliono suonare la porta di una persona molto anziana modificando il tono della voce possiamo effettivamente metterli in difficoltà chi sta suonando la mia porta chi sta suonando la mia porta chi sta suonando la mia porta non è una cosa simpatica ma bisogna usarla con cognizione perché può avere un'utilità importante abbiamo poi la gestione del cloud che in questo caso è già scaduto qui abbiamo la gestione della memoria dove viene indicato il taglio della micro sd inserita e lo stato di funzionamento una cosa importante nelle impostazioni di sicurezza nativamente il dispositivo tiene la crittografia video abilitata ma vi ricordo che se abilitiamo la crittografia video che è una sicurezza superiore non abbiamo la possibilità ad esempio di visualizzare i dispositivi con degli amazon eco se noi tentiamo di chiamare la visione in diretta ci dice che non è possibile effettuarla per disattivare la crittografia video c'è una procedura dove vi viene inviata anche una mail all'indirizzo dell'account per autorizzarlo mostra spioncino ok ok in questo caso abbiamo la visione in tempo reale possiamo anche da qui attivare o disattivare il microfono se vogliamo intraprendere o meno una conversazione con chi c'è alla porta qui abbiamo il parametro della rete informazioni dispositivo se ci fossero degli aggiornamenti verrebbero notificati qui ora qui ci sono ad esempio tutti gli eventi che sono stati registrati quindi qui ad esempio rimane qualcuno ha suonato il campanello della porta se noi lo mandiamo in riproduzione vedete che carica questa ad esempio è la visione notturna questo sono sempre io che faccio delle prove con il pianerottolo completamente al buio quindi guardate che potenza che riesce ad avere l'infrarosso qui invece un esempio di visione con l'infrarosso disattivato eventi che vengono suddivisi in rilevamento intelligente o in chiamata dal campanello lui in questo caso sta andando a prendermi le registrazioni che ci sono sulla micro sd se andiamo in cronologia video ovviamente mi dice che il cloud è scaduto quindi mi sposto sulla micro sd non mi interessa avere gli eventi di oggi ma mi interessa ad esempio andare a vedere che il giorno 12 ci sono stati degli eventi vedete l'arrivo di un vicino viene rilevato senza senza problemi questo sono io che arrivo e faccio delle prove questo sono sempre io ma al buio qui ad esempio sono dei vicini che passano e vengono rilevati immediatamente qui è la mia famiglia che torna a casa che viene rilevata tutto quello che passa lo rileva senza problemi fin troppo quindi tenete conto che se attivate il rilevamento della figura umana comunque tutte le figure umane che passeranno davanti verranno rilevate queste sono le notifiche che vi arrivano ad esempio quando il telefono è bloccato vi arriva la notifica delle zviz spioncino allarme pir ok qualcuno sta suonando il campanello sblocchiamo riprendiamo la notifica e rispondiamo vedete che entra in comunicazione con chi c'è davanti al portoncino ora vado davanti al portoncino sono massi e questo è quanto con telefono bloccato se abbiamo il telefono sbloccato invece arriva invece un pop up di questo tipo potete direttamente rispondere e anche qui si mette in comunicazione con il portoncino si illumina il display parte la suoneria che potete scegliere impostare mentre qui avendo l'app zviz aperta parte direttamente questa schermata insomma funziona tutto perfettamente e abbiamo le stesse funzioni che ci sono normalmente sulle telecamere zviz con qualcosa in più trattandosi di uno spioncino se andiamo in vista live ovviamente viene caricato quello che sta vedendo in quell'esatto momento possiamo come con le telecamere scattare un'istantanea o registrare un video sul dispositivo possiamo anche intraprendere una conversazione premendo il tasto microfono la qualità è comunque molto buona la definizione molto alta l'infrarosso è molto molto potente perché adesso è buio pesto e guardate come riusciamo a vedere bene adesso facciamo qualche prova anche dal computer anche sull'app zviz studio da pc abbiamo le notifiche che arrivano regolarmente dallo spioncino possiamo lanciare la vista live in qualsiasi momento possiamo ovviamente accedere anche galleria da pc quindi da qualsiasi pc da qualsiasi parte del mondo vedete che abbiamo la riproduzione dei rilevamenti che vengono attivati e con le registrazioni che partono ci possiamo spostare sulla timeline per arrivare al secondo rilevamento vedete che viene rilevato prima con la telecamera a infrarossi vicino che esce dalla porta e successivamente comuta in visione diurna perché sono state accese le luci questa è mia moglie che arriva a casa che viene rilevata guardate anche che bei colori che bella definizione adesso qua non ci sono colori molto vivi però credo che si riesca comunque ad apprezzare questo è un altro rilevamento del movimento calcolate che qui è impostato su sensibilità media vedete qui ancora un altro tutto quello che passa viene rilevato assolutamente senza problemi ovviamente in qualsiasi momento potete andare a dare un'occhiata semplicemente avvicinandovi e schiacciando il pulsante un oggetto che ha una doppia funzione perché vedete può servire anche per appendere le decorazioni di natale dunque siamo al 4 gennaio io non l'ho mai caricato vediamo un po come siamo messi di batteria vedete che siamo al 72 per cento ho giocato un po ho fatto tutte le attivazioni che ho usato per le clip del video ho avuto delle chiamate ho avuto dei periodi che utilizzavo il rilevamento quindi l'ho usato abbastanza e la batteria adesso è a questa percentuale un oggetto che comunque si integra benissimo in qualsiasi design anzi ritengo sia anche una chicca tecnologica bella da vedere insomma un ottimo prodotto molto curato anche a livello diciamo hardware per quanto riguarda il montaggio la diversa possibilità di installazione su porte diverso spessore e come vi ho spiegato a inizio video ovviamente facendo un foro potete anche montarlo su porte che originariamente non avevano lo spioncino quindi ricapitoliamo è fatto bene funziona molto bene app zviz con tutti i suoi diciamo servizi e opzioni a corredo che è pressoché imbattibile vale quello che costa secondo me si ritengo che sia praticamente inimitabile o meglio può essere solo imitato migliorarlo lo vedo già difficile spero di avervi dato tutte le nozioni necessarie se avevate ad occhiato magari questo prodotto ma non eravate sicuri dell'investimento perché comunque parliamo di più di 100 euro che comincia a diventare una cifra importante spero anche qui di avervi fatto vedere esattamente di cosa stiamo parlando per capire se può fare al caso vostro io come al solito vi ringrazio se vi è piaciuto il video un bel like soprattutto è gratis e non costa nulla cliccate iscriviti mi fareste un grosso favore mi aiutate a far crescere il canale vi ricordo che se andate a dare un'occhiata nelle mie playlist trovate un sacco di tipologie di video insomma tutto quello che riesco a fare che segue il mio lavoro le mie passioni io lo porto sul canale in modo completamente gratuito cercando di condividere tutto quello che posso e noi ci vediamo al prossimo video o alla prossima diretta del giovedì sera ciao da massidattoli ciao 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 ciao